Per noi ragazzi comunque non siamo potuti venire a scuola quest'anno e anche in quarta. Vivere questa settimana a scuola è un po' di aria, un po' di ossigeno e respirare l'aria che c'è qui al Marco Polo. È stato emozionante e allo stesso tempo dà anche un po' l'idea della ripartenza, un po' di speranza. Tornare a scuola in piena estate non è un sacrificio, dicono queste ragazze, soprattutto dopo un anno e mezzo di chiusure e ripartenze. L'ITT Marco Polo di Firenze si è aperto alla città dal 12 al 17 luglio per un calendario di eventi gratuiti, incontri e cinema per giovani e adulti, workshop e laboratori riservati agli under 25. Una sessantina di studenti si sono fatti avanti come volontari per spalancare le porte del loro istituto. L'iniziativa è nata anche dalla collaborazione con Unicop e Firenze in attesa che a settembre ripartano le proposte educative sulla cittadinanza consapevole promosse dalla cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado. Il titolo scelto per la prima edizione di questo festival scolastico è tutto un programma. Julie for Future. Proviamo a ripartire da una settimana in estate lanciando il seme di una scuola diversa che riprenderà a settembre e l'altra idea è quella di discutere di temi che ci stanno a cuore, quale città e quale turismo vorremmo a Firenze, quale scuola e provare a immaginare un futuro diverso per la scuola e per la società che però riparta dai ragazzi. Qui ha fatto tappa anche il progetto di Unicop e Firenze sulle tracce di Dante, il viaggio virtuale in 3D nella Divina Commedia che sta toccando strade e luoghi di Firenze. E poi tanti dibattiti come questo dedicato a giovani e arti, ospite il direttore della Galleria degli Uffizi, Hank Schmidt, e lo youtuber Pietro Resta in Arte Wikipedro. C'è tanta volontà di contatto diretto, questo significa il contatto diretto tra le persone ma anche con l'arte in tutte le sue forme. Senz'altro è una sfida comunicare con i giovani e c'è una sola maniera di farlo, direttamente con loro e quindi è perfetto di essere qua. Scoprire se stessi credo sia il messaggio più importante che sarebbe stato utile per me quando avevo la loro età. Quindi più che seguire la passione, seguire quello in cui si è bravi e da lì poi dopo muoversi per decidere il proprio futuro. A proposito di futuro, chi ha appena passato l'esame di maturità guarda al domani con speranza e tanti progetti. In questo periodo delicato, l'entusiasmo dei più giovani è uno stimolo per ripartire. Finire l'università, prendere la patente e entrare a lavorare in carcere. Vorrei diventare un'educatrice in carcere e quindi poter realizzare questo sogno.